Del nord passa a Singapore per 3 a 1, ospiti in vantaggio con Choi Van Noom al ventottesimo. E' siglato da Choi Yong-san al quarantunesimo. Singapore. La distanza, 10 minuti dal time, è con Saad. Ma dopo quattro minuti di tempo, si ripete Choi Yong-san che approfitta di un'uscita incerta del portiere e segna il terzo gol per la Corea. Grazie a tutti.